Pinksy è la protagonista della colana dei libri Pinksy the Whale. È una balenottera che nasce blu in un branco di balene blu, molto vivace, sempre pronta a giocare, a fare attività sportiva, a uscire con gli amici. A un certo punto durante una gara in nuoto la sua pelle diventa rosa, non si sa il motivo. La sua vita cambia, tutti la prendono in giro, lei si autoemargina perché a lei non piace sentirsi diversa e si rintana, diventa la più grande conoscitrice di animali rosa come lei e quindi a rischio di istensione. A un certo punto un suo amico, Vericul Krill, un po' pazzerello ma molto generoso, la prende e dice basta Pinksy stare rinchiusa, vieni con me, ti faccio scoprire il mondo. Non tutti sono blu come al polo nord e lei affronta questa magica avventura, fa tanti incontri con personaggi molto particolari che hanno fatto della loro diversità un punto di forza e torna al polo nord assolutamente orgogliosa del suo speciale colore rosa, senza dire ai suoi amici a voi cattivi mi avete preso in giro, mi avete emarginato, ma voi non conoscete, non sapete che il mondo è vario ed è bellissimo.